Buongiorno a tutte e tutti. Nel video di oggi ci occupiamo di comunicazione seriale con una scheda Arduino. Il video è sostanzialmente diviso in due parti. Nella prima parte utilizzeremo una scheda Arduino, la programmeremo in modo che mandi delle informazioni sulla porta seriale, poi leggeremo queste informazioni con gli strumenti dedicati per programmare la scheda Arduino. Nella seconda parte, invece, utilizzeremo uno script Python per andare a leggere le informazioni che Arduino sta comunicando sulla porta seriale. Per portare a termine, diciamo, per comprendere a pieno questo video, i contenuti di questo video, è necessario conoscere un po' il funzionamento delle schede Arduino e come si programmano e soprattutto è necessario avere un po' di dimestichezza con il linguaggio di programmazione Python nel configurare un ambiente, un virtual environment in cui andiamo a installare le librerie necessarie, soprattutto per comunicare con la scheda Arduino, e un ambiente di sviluppo Python. Pertanto, se non avete un'infarinatura di tutto questo, soprattutto per la parte Python, vi consiglio di dare un'occhiata al video di cui vi metto il link qui sopra, che spiega appunto per, diciamo, come installare e configurare Python e un ambiente di sviluppo sui tre principali sistemi operativi che sono Windows, Mac OS e Linux. Ora possiamo iniziare. Partiamo dalle schede Arduino. Qui vediamo una scheda Arduino Uno, una scheda Arduino Mega e una scheda Arduino Nano. Le prime due sono delle schede compatibili, quindi non originali. L'Arduino Uno e questa è una, e il Lego Mega. Sono pienamente compatibili. Questa è una scheda originale Arduino Nano. Le cose che noi andiamo a vedere oggi sono molto basilari. Una qualunque di queste schede è funzionale al nostro scopo. Pertanto ne utilizziamo uno, una, e direi che utilizziamo la scheda Arduino Uno, che è quella che ci farà compagnia per tutto il video. La prima cosa da fare è connettere questa scheda al nostro PC. Dobbiamo utilizzare un cavo come questo, che abbia il connettore USB da una parte che si connette al nostro PC e l'altro tipo di USB utile a connetterlo alla scheda Arduino. Ecco qua, andiamo direttamente a connetterlo alla nostra scheda Arduino e l'altra parte del cavo la vado a connettere al nostro PC. La scheda risulta connessa e, diciamo, sta lampeggiando. Quello che dobbiamo fare adesso è avviare il software per la programmazione della scheda Arduino. Eccolo qua, si chiama Arduino. Io in realtà l'ho già attivato precedentemente. Questo è quello che noi vediamo al primo avvio. Questo è un cosiddetto sketch, un programma vuoto. Possiamo andare a salvarlo. Lo salvo direttamente. Lo salvo in questa cartella temporanea che vedete sul mio desktop, così vedete anche cosa succede mentre faccio il salvataggio. Lo chiamo serial-example1. Qui non vedete un file ma una cartella. Dentro questa cartella ci saranno tutti i file del nostro progetto, compreso il file serial-example1.ino, che è il file che sostanzialmente contiene il programma che andremo a scrivere. Noi abbiamo necessità di programmare sia la funzione setup che la funzione loop. La funzione setup è una funzione che serve a fare il setup dell'hardware. Nel nostro caso l'unica cosa che dobbiamo fare è, con la funzione serial-begin, inizializzare la comunicazione sulla porta seriale. Quindi serial-begin, l'argomento è 9600. 9600 è un numero su cui non mi dilungo, ma sostanzialmente è la velocità di comunicazione sulla porta seriale. È un numero abbastanza standard per questo tipo di applicazioni. La funzione loop è quella che verrà eseguita, in loop, come dice il termine stesso, ad una frequenza pari a quella del microprocessore sulla nostra scheda Arduino. Quindi noi cosa facciamo? Mandiamo in loop una informazione sulla comunicazione seriale. Quindi utilizziamo serial-print. In realtà utilizziamo serial-println, quindi dopo la stringa che passiamo come argomento a questa funzione, la funzione println aggiunge direttamente il carattere a capo. Andiamo a stampare quello che vogliamo, tipo hello, I'm di Arduino board. Ok? Con un punto esclamativo. Metto qua un punto e virgola. Il linguaggio di programmazione è molto simile a C, C++, quindi tutte le linee devono finire con un punto e virgola. E qui vado ancora ad aggiungere un delay. Perché? Perché come vi dicevo la funzione loop viene eseguita con una frequenza molto elevata, quella del microprocessore della vostra scheda Arduino. Quindi per andare ad osservare meglio il fatto che questa stringa viene stampata ripetutamente, aggiungiamo un delay noi, di due secondi. L'input della funzione delay è un numero espresso in millisecondi, quindi mettendo 2000 tutto questo corrisponde a due secondi. E quindi se tutto questo funziona, ogni due secondi la nostra scheda Arduino dovrebbe stampare la stringa hello, I'm di Arduino board. Nella fase preliminare, che mi sono dimenticato di citare, dobbiamo comunque verificare che la nostra scheda Arduino sia stata rilevata dall'Arduino Header, quindi dobbiamo andare in tools, dobbiamo andare a controllare queste due voci. La prima voce è una voce in cui noi dobbiamo dichiarare che scheda Arduino stiamo utilizzando. Ad esempio la scheda Arduino Uno. Se avessimo utilizzato la nano avremmo dovuto selezionare questa voce, la mega, nel mio caso questa voce, perché questo è il modello che io ho. Porta com. Quando collegate la scheda Arduino al vostro computer, gli viene assegnata una porta com. Nel mio caso è stata assegnata la porta com 9, che è quella selezionata, quindi tutto a posto. Nel caso io adesso cambiassi la porta USB, cambierebbe probabilmente la porta com, e quindi dovrei cambiare selezione. Ma qui, ripeto, è tutto a posto. Pertanto adesso cosa devo fare? Devo semplicemente mandare, caricare questo codice sulla scheda Arduino. Qui ci sono una serie di tasti. Il primo per verificare il codice, questo per caricarlo, che è quello che ci serve, qui per generare un nuovo file, perché il nostro progetto può contenere più file, per aprire un file per salvare questo file. A noi, come vi dicevo, interessa Upload. Quindi lo premo, il codice viene compilato, e a fine compilazione, se tutto è andato a buon fine, viene caricato sulla scheda, la scheda che inizierà a lampeggiare nel momento in cui il codice viene caricato. Quindi adesso andiamo ad attendere la compilazione. Vediamo un attimo, dovrebbe comparire un messaggio, un messaggio bianco che ci dà l'esito della compilazione. Stiamo quasi. Ecco qua. La compilazione è andata a buon fine, la scheda dovrebbe iniziare a lampeggiare, si sta lampeggiando, ecco, quelli sono i led che hanno lampeggiato. Dobbiamo solo verificare adesso che tutto sia funzionante, come? Andando a leggere ciò che succede sulla comunicazione seriale. Possiamo accedere alla comunicazione seriale con Tools, Serial Monitor, oppure con questo tastino qua, che è una scorciatoia per attivare il Serial Monitor. Premiamo, si apre il Serial Monitor, ed ecco che una volta ogni due secondi compare la scritta Hello, I'm the Arduino Board. Tutto funzionante. Andiamo quindi a chiudere questo Serial Monitor, perché si è conclusa così la prima parte del nostro video, e andiamo a capire come questa azione si può replicare con uno script di Python. Vengo in questa cartella e con un tasto destro apro l'editor WSCode, quindi sto aprendo una cartella all'interno di un editor di testo che posso utilizzare per scrivere del codice Python. Si apre WSCode. Con questo elemento qua accedo a una sorta di Explorer Resource, dove effettivamente vedo il contenuto della cartella. Creo un nuovo file, e questo nuovo file lo chiamo read.rom.serial.py, perché è un file Python. Una volta creato lui andrà ad aprirlo. Chiudo questo welcome perché direi che non mi interessa più di tanto. Ed ecco che ho il mio file. È un file .python, che quindi attiva il plugin che io ho installato in questo editor per gestire i codici Python, che mi va a rilevare un ambiente in cui ci sono tutte le librerie di mio interesse. Qui sotto vedete che quest'ambiente si chiama Lab. Se non l'avesse rilevato, basta cliccare qui e vedo tutti gli ambienti che ho a disposizione. Potrei andare a selezionare l'ambiente Lab. Ripeto, è quello dove ci sono le librerie, che adesso vi mostrerò. Il fatto di avere tutta questa integrazione mi permette ora di aprire un terminale. New Terminal. Ecco che si apre appunto un terminale. Intanto chiudo l'Esplora Risorse, anche perché in questo momento non mi interessa. Attendiamo l'apertura del terminale. Il terminale si apre dandomi accesso direttamente a questo ambiente Lab. Ne prendiamo atto qui. E ora andiamo a vedere il contenuto di questo ambiente. PIP List. PIP è l'istruzione che mi permette di gestire tutti i pacchetti all'interno di un ambiente. PIP List mi fornirà proprio l'elenco di tutte le librerie che sto utilizzando. All'interno trovo delle librerie standard, trovo delle librerie che ho installato io come NumPy, ShipPy e Matplotlib, che ho installato proprio perché sono necessarie per gestire i dati, per plottare i dati, per visualizzare i dati. Trovo iPython, una libreria che mi permetterà di attivare una scelta interattiva da cui eseguirò i codici. E poi, veniamo all'ultima, essenziale per comunicare con la scheda Arduino, PySerial. PySerial, come vi dicevo, è essenziale perché è quella che mi permette di comunicare con la scheda Arduino. La prima riga di codice è proprio ImportSerial. Questa linea di codice è quella che mi importa la libreria PySerial. Ora, qui spendo due parole, perché nel mondo Python esiste una libreria che si chiama Serial. Quindi, se voi la installate, per sbaglio, nel momento in cui fate ImportSerial, importate quella libreria lì, e quella libreria lì non è quella che vi serve. Pertanto, tutto quello che io farò dopo non funziona se voi avete la libreria sbagliata. Quindi, due sono le cose da verificare. di avere la libreria PySerial e di non, sottolineo, non avere la libreria Serial. Fatte queste verifiche, posso fare un po' di pulizia e continuare col mio codice. Come vi dicevo, ImportSerial è la prima libreria di nostro interesse. Dopodiché importiamo la funzione Time che è la seconda libreria di nostro interesse. Questa in realtà è opzionale. Vi spiego poi a cosa serve. Adesso dobbiamo attivare una comunicazione seriale. Lo facciamo inizializzando un oggetto che chiamiamo Arduino. È un po' come se fosse l'equivalente virtuale della nostra scheda fisica. La libreria Serial la utilizziamo come Serial. E poi accediamo alla funzione Serial. Quindi Serial.Serial. L'unica differenza è che nel secondo caso c'è una lettera a maiuscola. Qui abbiamo necessità di passare due parametri. Il primo parametro è la porta su cui la nostra scheda Arduino è connesta. La porta se non ve la ricordate l'andate a recuperare qui da Tool e qui avete COM9. In un sistema forse ho schiacciato qualcosa che non dovevo schiacciare. Fatemi vedere. Infatti ho cambiato la scheda Arduino in Arduino UN. Vado a rimodificarla in Arduino UN. Vediamo che sia tutto corretto. Sì. Benissimo. Torno qua e vado ad aggiungere COM9. Il secondo parametro è la velocità di comunicazione. 9600. Praticamente ho attivato una comunicazione seriale. Adesso devo replicare la funzione loop. La funzione loop è una funzione che viene eseguita continuativamente. Quindi qua un equivalente potrebbe essere while through Finché questa cosa è vera ed è sempre vera quindi poi andrò io a interrompere manualmente il codice vado a stampare ciò che posso leggere sulla comunicazione seriale quindi Arduino punto read line la tonda chiusa tonda perché questa è una funzione questo codice replica esattamente ciò che succede con il serial monitor vogliamo provarlo vado sul mio terminale attivo ipython che è una shell interattiva attendo l'avvio della shell interattiva da cui posso eseguire con run il codice read from serial punto pi se lo eseguo vedrò una volta ogni due secondi la scritta hello I'm the Arduino board noto però che questa scritta è un pochettino strana c'è una b iniziale ci sono dei caratteri finali slash r slash n perché questa è una byte string con ctrl c interrompo il codice e vado a risolvere questa situazione qua dunque io sto stampando questa questa stringa questa stringa va decodificata quindi aggiungo delle parentesi tonde e applico a queste parentesi la funzione decode vado a decodificare la stringa con un tipo di codifica in questo caso è sufficiente la decodifica asci perché non sono presenti caratteri strani con questo stratagemma dovrei aver risolto questo problema e potrei e posso vedere una stringa un pochettino più bella quindi vado a fare un po' di pulizia e vado a rieseguire il codice ora prima di rieseguirlo vi faccio notare la seguente cosa con ctrl c io ho interrotto lo script ma non la comunicazione seriale questo script quindi alla linea 4 tenterà di avviare una comunicazione seriale quando in realtà ne esiste già un'attiva e quindi mi darà un errore lo attivo ed ecco l'errore l'errore mi dice che non può aprire la porta com 9 perché è già occupata l'accesso è proibito come si risolve tutto questo si risolve chiudendo l'equivalente virtuale del serial monitor con arduino punto close una volta chiuso se avvio questo script riesce ad aprire una nuova comunicazione seriale e di conseguenza mi stampa la stringa che questa volta è una stringa decodificata quindi in maniera più leggibile in maniera più chiara posso interrompere lo script e per dovere di cronaca vi faccio capire adesso qua chiudo il serial monitor quindi per dovere di cronaca vi faccio capire che lo stesso problema noi potremmo averlo se qui dal dal tool di arduino noi andassimo ad aprire il serial monitor che ovviamente mi dice hello I'm the arduino board e poi da qui dallo script python io tentassi nuovamente di accedere alla comunicazione seriale chiaramente lui mi dice che quel tipo di comunicazione adesso è occupata ed è occupata dal serial monitor quindi arduino close corrisponde a chiudere questo serial monitor se adesso rieseguo lo script lui non mi darà nessun errore e mi fornirà ad output hello I'm the arduino board interrompo la comunicazione seriale e chiudo virtualmente questo serial monitor faccio pulizia e adesso passo al perché di tutto questo come mai mi interessa leggere con python delle cose che posso leggere con il serial monitor per farvelo capire vado a modificare questo sketch lo salvo lo rinomino in serial example 2 e vado a simulare delle acquisizioni di dati inizializzo una variabile float al valore nullo la variabile globale quindi posso accedere a quella variabile anche qui nella funzione loop la prima cosa che faccio è stampare il valore di k senza andare a capo con la funzione serial print dopodiché vado a aggiungere sulla stessa linea uno spazio un punto e virgola un altro spazio e poi basta dopodiché vado ad aggiungere andando poi a capo quindi utilizzando println il valore di k al quadrato questo hello i'm di arduino board lo tolgo e manca ancora una cosa prima di passare alla esecuzione successiva della funzione loop vado ad incrementare di un'unità il valore di k quindi qui cosa sto stampando sto stampando 00 11 24 e così via l'equazione di una parabola vediamo se ho scritto tutto giusto provando a caricare questo sketch sulla sulla scheda arduino mi pare che stia compilando e sembra che stia arrivando a conclusione con successo possiamo verificare tutto questo con il serial monitor di arduino 00 11 24 39 funziona chiudo il serial monitor e verifico che questo codice nel script python mi permetta di replicare quello che ho appena fatto col serial monitor direi che è funzionante ora qui la differenza è che ci sono dei dati invece che sono sempre delle stringhe però sono dei dati posso pensare di trasformare questi dati in numeri utilizzabili facciamolo gradualmente intanto qui faccio un arduino close giusto per non dimenticare la prima cosa che faccio è inizializzare una lista vuota lo scopo di questa lista è quella di tenere traccia dello storico dei dati mentre io qui sto solo stampando il dato attuale ora voglio tenere traccia di tutti i dati quindi data append la funzione append serve per inserire un nuovo elemento in una lista che inizialmente è vuota ma poi si popolerà dei dati e chiaramente i dati che voglio aggiungere corrispondono alla lettura attuale quindi sposto ciò che stampavo alla riga precedente in modo tale da poter aggiungere un dato e a questo punto vado a stampare l'ultimo elemento si accede con l'indice meno uno della struttura data se adesso faccio un po' di pulizia e rieseguo il codice il risultato finale dovrebbe essere esattamente lo stesso il codice è cambiato ed è cambiato in modo tale che mi possa tener traccia di tutti i dati mi spiego meglio se vado ad interrompere il codice adesso avrò la struttura dati che ha tutto lo storico dei dati ma non sono ancora utilizzabili perché sono dei numeri perché sono una stringa perché la singola stringa contiene sia k che k quadro quindi partiamo da quest'ultima osservazione la stringa contiene sia k che k quadro cominciamo a dividere la stringa la stringa e per prima cosa intanto chiudo il serial monitor direi che questa è la singola stringa che contiene sia k che k quadro se metto tutto tra parentesi tonde e quindi applico a questa stringa la funzione split e questa funzione split che serve a separare separerà utilizzando il punto e virgola quindi otterrò un qualcosa che separato diciamo questa stringa verrà separata in due stringhe e come punto di separazione utilizzerò il punto e virgola quindi se eseguo questo codice faccio un po' di pulizia e vado a rieseguire il codice direi che otterrò più o meno lo stesso risultato ma non sto più stampando una stringa sto stampando una lista e questa lista contiene due elementi ogni elemento è una stringa la prima è k la seconda è k quadro interrompo il codice e adesso vado a fare la conversione in formato numerico quindi num data metto i numeri in una nuova struttura e vado ad aggiungere un elemento in num data con la funzione append utilizzo lo strumento list comprehension dove vado a dire di convertire in in plot quindi faccio plot di k por k in data meno 1 data meno 1 è l'ultimo elemento che ho inserito dentro la struttura dati vale a dire una di queste righe qua come vedete è una lista ciclo sugli elementi di questa lista che sono stringhe per ogni elemento di questa lista quindi per ogni stringa converti la stringa in un plot il risultato sarà che num data avrà per righe delle liste ogni lista avrà due elementi il primo elemento sarà k e l'altro k quadro ma stavolta saranno dei numeri quindi se adesso io stampo num data qui credo di dover ancora fare arduino close un po' di pulizia e rieseguo tutto questo codice dovrebbe stamparmi i dati 00 11 24 39 lascio andare un pochettino avanti l'acquisizione perché sono arrivato al punto finale dove vi farò capire l'utilità di tutto questo direi che posso interrompere l'acquisizione e farvi vedere che effettivamente adesso ho accesso a num data tanto vado a chiudere anche se non è strettamente necessario perché non abbiamo più bisogno di leggere dei dati quelli sono i nostri dati num data l'utilità è che adesso io posso importare delle librerie per gestire i dati come numpy e ad esempio trasformare la mia lista num data in un numpy array ciò che sto facendo è del tutto opzionale serve a convertire num data in una forma in cui per me è più semplice accedere alla prima colonna che è k e alla seconda colonna che è k quadro la prima colonna la metto in una variabile x e ci accedo con num data dopo di che due punti vuol dire tutte le righe zero che è l'indice della prima colonna come vedete x è un numero che va da zero a nove la seconda colonna la posso associare alla variabile y facendo due punti cioè tutte le righe uno che è l'indice della seconda colonna y è un numero che va da zero da zero a ottantino adesso posso importare una libreria per fare visualizzazioni di dati come matplotlib dopo che questa libreria è stata importata faccio un po' di pulizia così potete leggere lassù in alto e faccio un plot della variabile x e della variabile y quindi qua vedremo y in funzione di x questo plot lo possiamo configurare un pochettino anche questo è opzionale sto dicendo che voglio un colore azzurrino questo è il primo colore si chiama c zero sto dicendo che lo voglio in linea continua e sto dicendo che voglio i marker a forma circolare chiudo questa stringa che è solo una stringa di configurazione do invio il plot è stato eseguito ma non è ancora stato renderizzato perché non sono in modalità grafica interattiva con plt show andrò a visualizzare il grafico quindi il grafico adesso viene generato eccolo qua e qui abbiamo il nostro grafico ora capite probabilmente qual è l'utilità di tutto questo nel momento in cui noi utilizziamo gli strumenti integrati di arduino ide dopo aver fatto l'acquisizione dei dati il tutto finisce lì mentre se siamo in python dopo aver fatto l'acquisizione dei dati abbiamo tutto un mondo a nostra disposizione librerie numeriche per fare l'analisi dei dati librerie grafiche per visualizzare i dati e quindi questo apre tutta una serie di possibilità che diciamo a seconda del contesto uno si può customizzare e direi che questo chiude il video di oggi di oggi